Anche l'Abruzzo partecipa all'iniziativa internazionale sull'acqua che si terrà a Bruxelles dal 22 al 24 marzo. Sì, andiamo a Bruxelles insieme a delegazioni di tutta Italia e di tutta Europa per parlare con i gruppi parlamentari del Parlamento europeo affinché possano elaborare una risoluzione sull'acqua degna del nome, ma anche per protestare contro la Commissione europea che nonostante le abbiamo consegnato l'anno scorso 2 milioni di firme, non ancora deliberano, non ancora si muove per rendere l'acqua pubblica accessibile a tutti. All'iniziativa parteciperà una delegazione di 20 attivisti, amministratori, giornalisti e anche sindacati. Sì, c'è la Funzione pubblica, c'è la Filtem dei sindacati, c'è il foro ovviamente, i gruppi locali del foro Movimento per l'Acqua, c'è un consigliere comunale di 5 Stelle, un consigliere, un assessore comunale del Comune di San Giovanni Tietino e vale a realtà. È un po' tutto l'Abruzzo, abbiamo scelto delle persone che possano rappresentare anche i temi dell'Abruzzo perché ovviamente andando a Bruxelles noi vogliamo ricordare che cosa succede in questa regione dove non c'è giustizia per 20 anni di avvelinamento dell'acqua, dove ci sono aziende che si dicono pubbliche ma sono completamente colabrodo e comunque prostrate agli interessi particolaristici per ricordare ogni pezzo di questa benedetta Europa che vorremmo costruire.